Si è concluso nel tardo pomeriggio di domenica il primo trofeo K-Master M2 Memorial Paola Ales Carlone e Maria Ausilia Raimondo, la kermesse di nuoto che ha riunito nella nostra regione 200 atleti tesserati con 33 società provenienti da ogni angolo d'Italia per un totale di 383 atleti gara. La squadra M2 è salita sul gradino più alto del podio grazie a 24 ori, 13 argenti e 10 bronzi. Alle sue spalle la salaria nuoto che ha conquistato 17 ori, 11 argenti ed un bronzo. A chiudere il podio, atlanti dei nuoto, 12 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Premiati anche il miglior atleta maschile e femminile, entrambi romani. Il primo atleta della SD Flaminia, Marco Tenderini, categoria M45, ha primeggiato negli 800 stile libero, la stessa distanza che gli ha permesso di conquistare il titolo di campione europeo. La seconda è Silvia D'Agostino, categoria M40 della Tuscolana, ha conquistato il premato anche lei negli 800 stile libero. Una due giorni natatoria dedicata ai master, a chi ha chiuso l'attività agonistica ma vuole continuare a gareggiare, anche se solo a livello amatoriale. E' dedicata soprattutto a chi pratica sport per divertimento. Questo l'intento del centro M2 di Campodipietra, che ha puntato sul gruppo master guidato dai tecnici Barsotti e Di Lullo, e che ha visto un'importante evoluzione sia in termini di numero di atleti che in prestazioni.